Ed è andando avanti, c'è la necessità di darci delle regole, poi io non avevo una produzione alle spalle e sarebbe stato impossibile arrivare a questo risultato come una produzione, forse lo sai bene, perché una produzione richiede tutta una serie di sicurezze, perché io non sapevo che cosa sarebbe stato e avevo deciso di non chiedermelo. Quindi nel momento in cui l'ho proposta alla maestra, al preside, alla preside e poi ai genitori e anche con i bambini che mi all'inizio dicono ma che facciamo? Allora ci metti su YouTube, dove ci vediamo, diciamo ma vado freghiamocene, perché poi lo decidiamo insieme dopo.